Al via la 34esima edizione del Corteo Storico di Fiorentino e Federico II in programma dal 7 al 10 giugno organizzato dal Centro Attività Culturali Don Tommaso Lecisotti con il patrocinio del Comune di Torremaggiore assessorato alla cultura e il supporto di associazioni e scuole locali. L'evento per le sue caratteristiche ha ricevuto da parte del Ministero dei Beni Culturali il logo Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, rientrando nel calendario nazionale dell'Anno Europeo. L'evento, nato a Torremaggiore nel 1985 per rievocare la fondazione della città nel Medioevo, è ispirato a un binomio imprescindibile, Fiorentino e Federico II. Fiorentino perché rivive in Torremaggiore a seguito della trasmigrazione della maggioranza degli abitanti avvenuta nella seconda metà del XIII secolo, Federico II poiché è morto a Fiorentino, dove ha lasciato rilevanti eredità architettoniche come la Domus, di cui Torremaggiore custodisce i resti. Tutto ciò che fa parte del patrimonio materiale e immateriale di Fiorentino dunque appartiene a Torremaggiore, ragion per cui Federico II rappresenta il primo personaggio storico più importante della città, spiega il sindaco Pasquale Monteleone che prosegue evidenziando come anche quest'anno ci apprestiamo a vivere una edizione del corteo storico davvero ricca di appuntamenti e di contenuti pregevoli sotto l'aspetto storico-culturale che, ancora una volta, porteranno la nostra città alla ribalta provinciale e regionale fino a varcare i confini della Puglia, poiché si tratta di un evento ormai tanto radicato nel nostro territorio quanto riconosciuto a livello nazionale per l'elevato livello rievocativo che si pone sempre di esprimere, conclude il primo cittadino. Il riconoscimento del Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo ci inorgoglisce, poiché spinge questo evento alla ribalta europea e ci esorta a migliorare sempre di più l'offerta culturale, che è un elemento imprescindibile per l'attrattività del nostro territorio. La nostra amministrazione continuerà ad impegnarsi su questo fronte per raccogliere altri e prestigiosi risultati come del resto già accaduto finora, commenta l'assessore alla cultura Maria Pia Zifaro.